ciao a tutti benvenuti in un nuovo video trova il simbolo oggi abbiamo un 50 per 56 numero 12 serie 56 è un maxi miliardario serie 57 numero 8 insomma al 50 per allora 44 38 52 e 51 numeri vincenti poi 43 17 per 5 per 10 45 non c'è 35 neanche 53 no 16 non c'è c'è la 17 14 non c'è 39 non c'è 12 no 18 sempre 17 40 non c'è 21 non c'è 49 non c'è 30 non c'è 27 neanche 54 no 56 42 no 23 non c'è 11 non c'è 29 niente l'ultimo numero il 32 che non c'è passiamo al gigante soltanto abbiamo provato a prendere il gigante allora per 2 il 27 per 5 il 31 per 10 il 38 il 28 e prima ci si possa trovare sempre i simboli 42 24 che si gira attenzione 47 29 44 e 40 i numeri primo numero 23 e non c'è 53 e non c'è 53 no 25 no quasi tanti numeri da guardare 43 non c'è 56 neanche 39 39 non c'è 54 non c'è 54 non c'è 57 no 55 non c'è 30 no c'è 31 39 non c'è c'è 38 per 10 32 e c'è 31 non c'è 56 non c'è 50 c'è 40 26 non c'è 20 no 28 c'è 29 16 non c'è 45 neanche 37 non c'è 46 no l'ultimo il 36 che non c'è 36 che non c'è ora sotto il 40 ci sono 20 euro il prezzo del biglietto e va bene così quindi per quest'altra sfida ancora non abbiamo trovato nessun simbolo nessun per ci vediamo un prossimo video ciao a tutti un bacio a tutte ciao a tutti